No, la benedetta è in Novara e le sue sensazioni... Prima di tutto, torniamo a Novara. Aspetta una grande sfida per il tuo primo giorno a Novara? E quali sono i tuoi primi sentimenti per giocare in Italia e in Novara? Non ho aspettato così molte persone. Sono molto felice per vedere quanti fanci il club ha. E ho aspettato che l'Italia sia un buon fulgare e una forte ligue. Quindi sono molto felice. Quanto tifosi abbia la squadra. E in questo momento è molto emozionata perché sa che l'Italia è un paese fantastico per giocare a pallavolo. La sua prima esperienza nel campionato italiano, credo sia un bello stimolo. Trova una squadra con campionesse come Francesca Piccinini. Sicuramente sarà un'esperienza anche a livello personale importante. È la tua prima volta in Italia che giocherai con molti giocatori, molti giocatori della Liga italiana. E questo sarà probabilmente un grande contesto per te. E anche un contesto molto stimolante. Sì, è ovviamente un grande onore per me di giocare con ragioni come Francesca. Quando ero nuova ho fatto il mio primo gioco con la squadra nazionale. E' stata davvero la star dell'Italia. Quindi è incredibile che giochiamo insieme. e sì, faccio il mio meglio per ottenere tutti i giocatori qui. Sarà un onore per lei giocare con campionesse come Francesca che lei ha conosciuto già in nazionale. E quando si sono incrociate la prima volta per lei era come giocare contro un mito. Dice che lavorerà duro per far sì che la squadra possa raggiungere quelli che sono gli obiettivi stagionali.